Questo video è per tutti coloro che si sono chiesti almeno una volta Com'è il lago da sotto la superficie A volte sembra un pianeta alieno A volte una spiaggia sommersa A volte ancora una penura sconfinata A volte una neve immobile circonda tutto senza cadere A volte sembra una fitta foresta sommersa A volte la foresta è dispersa nell'acqua stessa In gindola di verde A volte è trasparente come il mare A volte invece appare desolato Ma se sembra un deserto occorre guardare con più attenzione Per scoprirlo ricco di vita A volte sembra un deserto a volte si incontrano buffi animali non appartengono a questo mondo e qualche volta fanno anche dei grandi danni ma qualche altra volta si prodigono per conservarlo studiandolo e comunicandolo per farlo conoscere ed apprezzare in una sola parola far scoprire il lago Grazie per la visione